ciao a tutti e benvenuti su my football jersey io sono stefano e oggi vi presento la maglia del 2021 dell'argentina è dedicata a diego armando maradona scomparso ormai da un anno nella versione player quella cioè indossata dai calciatori la prima maglia dell'argentina è ovviamente bianco celeste e presenta queste rifiniture di color oro molto elegante molto bello che nella trama della maglia diciamo così ci sono delle scritte rievocative lo stema dell'argentina e il logo adidas sono termosaldati il che si vede perché all'interno non sono presenti cuciture da vicino si possono notare le scritte e frasi che contraddistinguono questa maglia le strisce adidas sono di colore oro sul basso della maglia c'è appunto l'omaggio a maradona a un anno della sua scomparsa il colletto è orvù ed è arricchito sempre da queste rifiniture color oro questa maglia in versione player è realizzata con la tecnologia aerore di adidas in controluce si può ammirare il tessuto traspirante della versione play cosa ne pensate della maglia secondo me è bellissima con queste rifiniture in oro è una maglia veramente molto molto elegante e molto ben riuscita peraltro dedicata a diego armando maradona uno dei più grandi sono il più grande calciatore di tutti i tempi ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete le misure della vestibilità se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like ed iscrivervi al canale ci vediamo alla prossima ciao io sono alto un metro 75 e peso 70 kg quella che vedete è una taglia large della versione player